ciao e benvenuti in un nuovo video fova channel oggi vi parleremo della linea di obiettivi zeiss milbus questa famiglia nata tre anni fa e che continua ad allargarsi è dedicata alle reflex full frame in questo video vi parleremo di un bundle che per ben tre motivi risulta essere un acquisto utile ed azzeccato scopriamolo insieme ma prima i dettagli il bundle milbus comprende quattro focali fisse 25 mm 35 50 e 85 mm sono obiettivi molto versatili e della qualità indiscutibile che permettono di ottenere risultati notevoli sia nella fotografia degli interni sia negli spazi aperti non a caso l'azienda tedesca è una delle più apprezzate al mondo in fatto di prestazioni ed è famosa anche tra i neofiti iniziamo con la qualità queste ottiche zeiss hanno una resa del dettaglio ai massimi livelli che nasce dalla cura maniacale per il particolare e dalla ricerca del miglior risultato la qualità dello sfocato rende le immagini tridimensionali e i colori sono nitidi e fedeli privi di aberrazioni cromatiche inoltre tutte e quattro le ottiche di questo bundle sono provviste del famoso trattamento t che minimizza i riflessi e l'effetto ghost sappiate che nonostante nascano come obiettivi fotografici le ottiche milbus regalano grandi soddisfazioni anche in ambito video infatti dal nostro punto di vista rappresentano una valida e più economica alternativa alla linea di obiettivi compact prime l'ampio angolo di rotazione della ghiera di messa a fuoco consente la massima precisione e la funzione de click per la regolazione del diaframma è ideale in ambito video inoltre grazie a questo accessorio il lens gear la famiglia di obiettivi milbus si trasforma in un vero e proprio set di ottiche cinematografiche stavolta la ciliegina sulla torta la mettiamo direttamente noi fino al 31 dicembre infatti attiva sul nostro sito www.fova.it una super offerta a chi acquista il set completo di ottiche zeiss milbus regaliamo tre lens gear medium un lens gear large e una valigia di trasporto sagomata resistente all'acqua e agli urti il risparmio complessivo è di 1.087 euro non male no e non dimenticate la garanzia fova valida ben 5 anni qual è il vostro obiettivo preferito in ambito video scrivetecelo nei commenti e se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale noi ci vediamo qui ogni lunedì e venerdì alle 19 con un nuovo video